Abbiamo deciso di partire da zero per progettare un corso di alta formazione podcast completamente innovativo e perfettamente adeguato ai nuovi cambiamenti. Podcast 2.0, dallo storytelling all'integrazione multicanale, è un corso intieramente progettato a Ex Novo, proprio per poter rispondere e soddisfare le nuove aspettative emergenti. Abbiamo ideato questo corso cambiando il modo stesso in cui si progettano i corsi. Abbiamo adottato strategie specifiche e originali per renderlo il più efficace di sempre. Vero, infatti abbiamo riconsiderato e rielaborato tutti i contenuti. Abbiamo riesaminato tutti gli strumenti. Abbiamo ristabilito gli obiettivi e i metodi di apprendimento per promuovere proprio le esperienze di interazione tra i corsisti. E perché abbiamo fatto tutto questo? Beh, perché ti vogliamo portare nel mondo del podcasting 2.0 e aiutarti a formulare e a progettare un'idea di podcast multicanale e integrata. E volevamo anche un corso che fosse completamente in sintonia con le più recenti tendenze, un corso al passo con le nuove esigenze della comunicazione audiovisiva. Volevamo un corso in grado di valorizzare le caratteristiche specifiche del podcasting, ma in modo nuovo, integrato e multimediale. Il corso di alta formazione podcasting 2.0, dallo storytelling all'integrazione multicanale, ti insegnerà ad adeguare il tuo progetto, la scrittura, la sceneggiatura, i testi divulgativi, gli strumenti che dovrai utilizzare, la pubblicazione stessa del podcast, alle nuove tendenze che interessano il pubblico. Dall'11 ottobre 2024 all'8 febbraio 2025 renderai la tua idea possibile e adeguata alle nuove e affascinanti tendenze del podcasting 2.0, anche se parti da zero. 12 settimane, 60 ore, 4 laboratori e 2 professionisti al tuo fianco. Grazie.